Ciao, sono Michele dell'Osteria al Bianchi di Brescia. Da 2001 mio papà mi ha ceduto dei redini di questa posteria. In un tegame fondo far sciogliere 250 grammi di burro, unire un chilo di cipolla dorata tritata e far rosolare. Unire due chili di reale d'asilo ben frullato, tagliato a cubetti. Continuare a far rosolare. Aggiungere 250 grammi di concentrato di pomodoro. Aggiungere 2 litri di vino rosso, curta e franca. Lasciare cuocere per almeno 2 ore e 30 minuti. Finire la cottura saltando i bocconcini in padella. Impiattare assieme ad una fetta di polenta. Buon appetito dall'Osteria al Bianchi. Ecco qua, il piatto è pronto. Noi lo serviamo naturalmente con il curta e franca rosso della Barone Pizzini perché è adeguato a questo tipo di pietanza. Siamo in via Gaspera da Salò a Brescia. Buon appetito! Ci vediamo su Brescia a tavola. Buon appetito! Buon appetito!